Oggi 30 maggio 2018 inauguriamo l'aula Giulio Natta. In quest'aula vi è una mostra permanente fotografica sulla vita dello scienziato e sulle importanti scoperte scientifiche attuate. Ricordiamo che è natio di Imperia e quindi è legato al nostro territorio ed è unito ad un altro grande scienziato a cui abbiamo dedicato uno spazio della nostra scuola, Renato Dulbecco. Giulio Natta oggi è sempre più attuale perché le sue scoperte sono intramontabili e hanno determinato veramente l'indirizzo della chimica organica ma anche della chimica di sintesi, della chimica dei farmaci, quindi ha tantissime ripercussioni nella nostra realtà odierna. Quindi diciamo che parlare di Giulio Natta è sempre per noi motivo di orgoglio perché è uno scienziato che è vissuto e nato nella nostra città ed ha dato veramente un importante contributo. I ragazzi possono avere, grazie a questo stimolo culturale, avere veramente un esempio illustre a cui rivolgersi nel corso della loro vita e prendere spunto da queste importanti ricerche. Tratterò oggi anche i progetti scientifici e la divulgazione della cultura scientifica nel nostro liceo. I progetti sono il progetto piano lauree scientifiche, scienze dei materiali, laboratorio di biologia molecolare, progetto orientamento, progetto di bioetica, l'etica applicata alla scienza.